Ricordate, come ricorderete, il primo incontro era stato dedicato alle definizioni e agli ambiti di applicazione, il secondo alla struttura complessiva delle AI, quindi l'approccio basato sul rischio. La scorsa volta abbiamo parlato di governance e questa volta, e non potevamo fare altrimenti, parleremo di general purpose AI. Non potevamo fare altrimenti perché dal momento in cui soprattutto CHGPT a fine 2022 è entrato sul panorama dell'intelligenza artificiale, effettivamente ha dominato i discorsi sull'intelligenza artificiale, forse li ha dominati anche troppo in maniera sproporzionata, però certamente sistemi come CHGPT, di Open AI e anche altri hanno avuto, hanno e avranno un impatto notevole su tutta una serie di aree, su tutta una serie di domini di decisione, la medicina, la giustizia, la ricerca, ma ovviamente non sto a elencarli tutti perché sarebbero moltissimi. L'inserimento e l'utilizzo di general purpose AI e in particolare di CHGPT ha avuto un impatto molto rilevante nell'ambito giuridico, tanto che lo stesso AI Act è stato da ultimo integrato e modificato con una serie di disposizioni che non erano presenti nella versione originaria, ma che oggi troviamo nella versione approvata dal Parlamento europeo. Quindi dovevamo dedicare un incontro a general purpose AI e sono molto contento che questo incontro sia condotto questa volta da tre persone. Ci sarà la relazione giuridica di Giulia Olivato, che è una studentessa di dottorato dell'Università di Trento, ha studiato all'estero, in Germania, in altri ordinamenti e sta lavorando qui in Italia presso il Biolo Lab. Avremo Stefano Micocci che lavora nella fondazione Bruno Kessler, si è occupato molto di interoperabilità dei dati sanitari, di infrastrutture, di fascicolo sanitario, io ho lavorato con lo scorso governo proprio al Ministero per tentare di implementare per quanto possibile l'interoperabilità, le infrastrutture, il fascicolo sanitario, i dati sanitari, in modo da avere una medicina che possa avere tutte le potenzialità e sfruttare tutte le potenzialità dell'intelligenza artificiale e abbiamo, davvero sono molto contento di avere Paolo Traverso come discassant, Paolo Traverso e tutti quelli che lavorano di intelligenza artificiale lo conoscono, molto brevemente direttore della pianificazione strategica di FBK, è stato ed è componente, talvolta è stato direttore di associazioni e di organizzazioni a livello internazionale di assoluto prestigio in tema di intelligenza artificiale, è un punto di riferimento davvero a livello internazionale per quanto riguarda il computer science, per quanto riguarda FAIR sapete che questi webinar sono organizzati all'interno della cornice di FAIR, è componente del comitato tecnico scientifico e lasciami dire Paolo che sei una delle persone senza le quali non saremo qui a discutere di queste tematiche, quindi grazie mille per tutto quello che hai fatto per FAIR e anche per aver dato la tua disponibilità a fare da discassant all'incontro di oggi. Io mi fermo qua e cederei subito la parola a Giulia Olivato per la prima relazione proprio su AI Act e General Propos AI. Prego Giulia. Grazie mille professore e grazie a tutti voi per essere collegati. Banda agli indugi, condividerei una presentazione che ho preparato per questa relazione, adesso dovreste essere in grado di vederla, giusto? Sì, tutto giusto, la vediamo. L'oggetto dell'incontro di oggi sono appunto i General Propos AI oppure nella traduzione italiana i modelli di intelligenza artificiale a finalità generale, quindi andremo a parlare un po' di quello che è l'oggetto effettivamente di questa regolamentazione, specialmente nella sua dimensione dinamica, nella sua allocazione, nella supply chain dell'intelligenza artificiale, andando anche a vedere quali sono gli obblighi che vengono richiesti dal regolamento. Questo è appunto, come diceva il professore, l'ultimo incontro, quindi da un lato ho il compito molto ingrato di misurarmi comunque con la chiarezza espositiva di chi mi ha preceduto, dall'altro ho anche la grandissima anche semplicità del fatto di potermi anche avvantaggiare dei concetti che sono già stati espressi. Questo perché comunque, appunto, come è stato anticipato, in realtà questa regolamentazione non opera in un vuoto normativo, ma si va ad inserire all'interno di un regolamento molto più complesso. Dovendo però prevedere che comunque qualcuno magari si è collegato oggi ma non fosse riuscito a collegarsi negli altri conti e comunque per rinfrescare la memoria anche degli altri, riprendo giusto un paio di velocissimi elementi delle discipline che sono già state esposte. In particolare il concetto cardine del regolamento che è già stato esposto neanche nei profili problematici, nel primo incontro in particolare, è il concetto di sistema di intelligenza artificiale. Si tratta quindi, possiamo leggere nella slide, di un sistema automatizzato, progettato per funzionare con diversi livelli di autonomia che può presentare adattabilità successivamente al deployment, che ha degli obiettivi che possono essere espliciti o impliciti e deduce dall'input che riceve come generare output, che possono essere delle previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che sono in grado di influenzare gli ambienti fisici o virtuali. Le AI Act quindi va a normare in prima battuta specialmente questa tecnologia qua, la tecnologia, dei sistemi di intelligenza artificiale e in particolare, scusate un secondo, piccolo problema tecnico, ok, nella prima proposta, quindi parliamo dell'aprile 2021, questa destra è la famosa, famosa, meno per chi come noi si è interessato fin da subito del AI Act, piramide del rischio, che va ad analizzare quelli che sono i vari livelli di rischio, in particolare dei sistemi di intelligenza artificiale, che sono disciplinati dal regolamento. Quindi troviamo quattro livelli, il rosso rischio inaccettabile, l'aranzio nell'alto rischio, il giallo il rischio, il cosiddetto di trasparenza o rischio limitato, oppure il rischio minimo. La piramide però, come si può vedere, ha anche una nuova base, a seguito di questo innesto normativo formato appunto dalla regolamentazione del General Corporate AI, che è una regolamentazione che si basa non sui sistemi di intelligenza artificiale, ma sui modelli di intelligenza artificiale. Ed è importante far notare questa differenza e ricordare anche quella che è la piramide del rischio, perché appunto nel 2021, ma ancora fino alla fine del 2022, in realtà il regolamento nelle sue varie poi declinazioni, perché ovviamente è stato un processo molto lungo di negoziazione tra i vari organi europei. Si parlava solo di sistemi di intelligenza artificiale. E qual è il problema di questo approccio? Che appunto, prendendo ad esempio CiaGPT come esempio emblematico, ad esempio CiaGPT rienterebbe potenzialmente nella definizione di sistema di intelligenza artificiale. E qual è il problema allora? Perché andare a regolare anche i modelli? Per una ragione molto semplice, che i livelli di rischio relativi ai sistemi che sono individuati dal rettangolo giallo, quindi appunto la prima piramide del rischio che ne abbiamo avuto, sono livelli di rischio che si vanno ad identificare tramite il campo di applicazione del sistema. Quindi si parla di sistemi che sono destinati ad un utilizzo specifico. Mentre appunto i modelli per finalità generali, come anche i sistemi che poi integrano tali modelli, hanno appunto delle finalità generali. E quindi questo significava che non era che questi sistemi, ad esempio CiaGPT o altri sistemi basati sui modelli generativi, non rientrassero in alcuna categoria di rischio. Ma oltre a questo, perché in realtà si può anche legittimamente dire che magari non è necessario far rientrare questi sistemi all'interno di alcun livello di rischio, poi con certe eccezioni perché parzialmente rientrerebbero nel rischio di trasparenza per quanto riguarda magari i chatbot che bisogna magari segnalare che si tratta di interazione con l'utilizzo artificiale, oppure i deepfake è necessario segnalare appunto sempre che il contenuto è creato da un'utilizzo artificiale. Però di per sé questi sistemi non venivano normati. Però c'era anche un secondo problema oltre a questo, ovvero che i modelli di tipo general purpose o comunque modelli generativi per capirci possono anche essere inclusi in sistemi ed essere implementati in sistemi. Questi sistemi poi è necessario fare un'analisi del rischio, solo che per la natura del modello implementato all'interno del sistema non sempre il sistema che appunto esce dalla questa implementazione del modello, non sempre è possibile renderlo conforme all'EIAT, specialmente per quanto riguarda gli obblighi anche molto stringenti a volte per quanto riguarda i sistemi ad alto rischio. Quindi vediamo questa mia rielaborazione della piramide del rischio nella quale si vengono proposti anche i modelli di intelligenza artificiale. Quindi appunto nel primo rettangolo si ripropone il rischio inaccettabile, l'alto rischio, il rischio limitato, il rischio minimo e vediamo che nel rettangolo sotto si trovano anche una categoria nuova i modelli di intelligenza artificiale che a loro volta vengono divise in due categorie di rischio. Quindi modelli a finalità generale con obblighi di documentazione rispetto del copyright, ma vedremo meglio successivamente, oppure modelli di intelligenza artificiale a finalità generale con rischio sistemico che presentano ulteriori obblighi aggiuntivi. E vediamo anche in questo modo come in realtà l'inserimento di questa nuova categoria all'interno dell'EIA-ET ponga anche un'ulteriore particolarità. Perché se nella categorizzazione dei sistemi di intelligenza artificiale si va a regolamentare e a categorizzare a seconda del livello di rischio, ma un livello di rischio basato sull'applicazione concreta del sistema? In realtà, per quanto riguarda i modelli, andremo a vedere meglio in seguito, si tratta di una regolamentazione di una tecnologia specifica a causa di proprie caratteristiche tecniche. Infatti, adesso mi si perdoneranno le esemplificazioni, però ovviamente i modelli sono componenti essenziali dei sistemi di intelligenza artificiale, però ovviamente non costituiscono di per sé sistemi di intelligenza artificiale, perché appunto sono algoritmi o insiemi di algoritmi che sono addestrati con una vasta quantità di dati, svolgono dei compiti specifici, una volta addestrati, compiono le loro inferenze, prendono decisioni, svolgono le loro raccomandazioni a seconda degli input. La particolarità del sistema è che, come parte della propria funzionalità, includere altri componenti, che siano software o hardware, che gli permettono di interagire con l'ambiente. Infatti, è interessante notare, in realtà, come nella maggior parte dei test internazionali, in realtà quello che viene definito nella regolamentazione non è quasi mai l'intelligenza artificiale, ma al 99% è sempre il sistema di intelligenza artificiale, perché in realtà è un concetto molto più tangibile e che comunque fa capo, richiama anche appunto la sua applicazione diretta e il suo rapporto con l'ambiente con il quale interagisce. Quindi vediamo in questa slide appunto come tutto questo influisce per l'applicazione del regolamento, perché appunto troviamo in basso, a destra, la nostra piramide aggiornata del rischio, quindi nel rettangolo più basso, troviamo i modelli di intelligenza artificiale con le due categorizzazioni. Questi modelli presentano degli obblighi per i fornitori e per i rappresentanti autorizzati, che quindi devono essere ottemperati in relazione ai modelli di intelligenza artificiale a finalità generale, che troviamo a sinistra. Questi modelli verranno poi implementati nel sistema di intelligenza artificiale. Quindi quello che avviene è che sarà necessario ottemperare sia agli obblighi per i modelli di intelligenza artificiale a finalità generale da parte dei fornitori o rappresentanti autorizzati in caso magari di fornitori extra o e degli stessi. Successivamente questo modello necessariamente verrà implementato in un sistema. Tra l'altro il fornitore del sistema può essere o non essere lo stesso fornitore del modello, pensiamo a chat GPT, ovviamente chat GPT è il sistema, il modello è GPT in realtà. Quindi nel caso di chat GPT, OpenAI è il fornitore sia del modello sia del sistema. Qua può essere benissimo in realtà che il modello venga sviluppato da un fornitore e poi utilizzato da un ente terzo che è il fornitore del sistema di intelligenza artificiale. E anche in questo caso sarà necessario ottemperare sia per il fornitore del modello agli obblighi per i modelli il fornitore del sistema di intelligenza artificiale invece dovrà ottemperare a seconda ovviamente del livello di rischio del sistema specifico agli obblighi per il sistema ad alto rischio per il sistema di rischio limitato perché poi successivamente in realtà i sistemi a rischio minimo non richiedono appunto alcun obbligo e i sistemi a rischio inaccettabile semplicemente determinano la proibizione del sistema nel mercato. Quindi andiamo adesso a vedere che cos'è per il regolamento il modello di intelligenza artificiale per finalità generale. La definizione si basa sulle caratteristiche funzionali del modello però in realtà si può anche notare come l'Unione Europea tenga anche un occhio sul suo ruolo nella supply chain. Quindi si dice che appunto un modello è praticamente addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala è caratterizzato da una generalità significativa quindi è in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti e il modello comunque è tale indipendentemente dalle modalità di immissione nel mercato. Come ho detto prima io posso ottenere e sviluppare questo modello lo posso immettere nel mercato in realtà in vari modi posso caricarlo su una biblioteca open source posso utilizzare delle API quindi le interfacce di programmazione delle applicazioni posso permettere il download diretto dello stesso ad esempio e l'Unione Europea pone esplicitamente i modelli generativi come tipico esempio di modello di intelligenza artificiale per finalità generali. Andando quindi a vedere cominciando ad entrare più nella disciplina proprio la disciplina è contenuta innanzitutto al capo quinto del regolamento e presenta tre sezioni che andremo a vedere quindi innanzitutto le regole di classificazione poi successivamente vengono declinati gli obbligi dei fornitori dei modelli di intelligenza artificiale per finalità generali e per finalità generali con rischio sistemico. Per quanto riguarda innanzitutto le regole di classificazione ricordiamo esistono solo due categorie per i modelli invece che quattro come per i sistemi e la distinzione tra le due è appunto la presenza o meno di questo cosiddetto rischio sistemico rischio sistemico che viene definito come un rischio specifico per cosa? Per la salute pubblica la sicurezza i diritti fondamentali o la società nel suo complesso e che è un rischio che è caratterizzato dal fatto che si possa propagare su larga scala lungo l'intera catena del valore lungo tutta la supply chain diciamo. In realtà è ovviamente una definizione abbastanza fumosa una vera propria definizione mi sembra abbastanza chiaro che il legislatore si sia tenuto un ampio margine di apprezzamento anche perché appunto il rischio specifico vedremo meglio nella prossima slide fa scusate il rischio sistemico fa esplicito riferimento alla capacità di impatto elevata dei modelli però in realtà questa capacità di impatto elevata è di per sé una definizione ricorsiva perché il legislatore ne considerando dice cos'è la capacità di impatto elevata? È la capacità dei modelli più avanzati cosa siano e che cosa facciano però non è molto dato sapere sicuramente ci saranno appunto adesso si parlerà anche di questo degli indicatori tecnologici sicuramente il legislatore si è tenuto un ampio margine di apprezzamento quello che si può dire è che comunque questo approccio si innesta in una lasciatemi passare il termine tradizione dell'ultimo anno degli ultimi circa due anni in cui appunto si è cominciato a vedere l'impronta anche nel discorso sociale e politico di questi grossi modelli generativi e quindi anche in campo internazionale faccio esempio riferimento al Hiroshima Process del G7 effettivamente si è cominciato a parlare anche di questi potenziali rischi sistemici con quindi possibili problemi di controllo ad esempio in relazione a rischi chimici biologici radiologici nucleari addirittura per quanto riguarda lo sviluppo di armi il fatto che ci possano essere scoperte di vulnerabilità su ampia scala la capacità di controllare sistemi fisici l'eventuale autoreplicazione dei modelli e tutta una serie di questo questi tipi di comunque rischi su larga scala andando quindi proprio sulle regole di classificazione innanzitutto ci sarà un elenco perché i modelli con rischio sistemico saranno contenuti in un elenco redatto e pubblicato reso pubblico dalla commissione i modelli verranno classificati come modelli rischio sistemico in due modi o sarà lo stesso fornitore a rientrare in uno dei delle soglie stabilite dalla commissione e quindi a segnalare anzi a dover segnalare senza ritardo e comunque entro due settimane alla commissione quando quando appunto si presentano delle capacità di impatto elevato in relazione a questa capacità di impatto elevato il regolamento pone una presunzione nel caso di se il calcolo utilizzato ad esempio per l'addestramento sia i superiori ai 10 alla ventesima flop però insomma comunque in generale verranno redatti da parte della commissione una serie di strumenti tecnici metodologie KPI eccetera in modo da valutare delle soglie tecniche oltre le quali i fornitori dovranno appunto segnalare che dovranno segnalare di aver raggiunto in caso di raggiungimento di queste soglie quindi sarà il fornitore a dover notificare la commissione o in mancanza la stessa commissione a dover appunto individuare questa situazione il fornitore potrà anche nel notificare la commissione provare a motivare il fatto che pur rientrando nelle soglie in realtà non rientra nel rischio sistemico e lì starà appunto nella valutazione della commissione la scelta se fanno rientrare o meno in questo elenco altrimenti in realtà la commissione ha parecchia discrezionalità sul tema sull'identificazione quindi di questi modelli questo perché o il modello risponde a queste soglie raggiunge queste soglie oppure la commissione può comunque decidere che il modello presenta capacità comunque o un impatto equivalente o con una decisione d'ufficio che ovviamente va motivata e che il fornitore può contestare oppure a seguito di una segnalazione qualificata del gruppo di esperti scientifici e per quanto riguarda invece l'ambito di applicazione ovviamente come per i sistemi di intelligenza artificiale l'ambito di applicazione è l'immissione del mercato quindi la prima messa a disposizione di un sistema o di un modello e come messa a disposizione appunto si intende la fornitura per la distribuzione o per l'uso nel corso di un'attività commerciale a titolo oneroso o gratuito e il regolamento prevede anche due importanti eccezioni quindi da un lato ci sono i modelli rilasciati con licenza libero open source e quindi una licenza che consenta l'accesso l'uso la modifica e la distribuzione del modello e di altri suoi elementi quindi ad esempio i parametri i pesi le informazioni sull'architettura eccetera e in questo caso il fornitore del modello non dovrà rispondere agli obblighi documentali che vedremo nella prossima slide inoltre nel caso di prototipazione attività di ricerca e di sviluppo invece i modelli sono semplicemente esempi totalmente e scusate anche l'eccezione relativa alla licenza open source non si estendono ai modelli con rischio sistemico per quanto riguarda i modelli a finalità generale si tratta di appunto della categoria attual rischio più basso diciamo e il regolamento propone quattro obblighi per questo tipo di modelli due obblighi sono relativi alla documentazione tecnica due obblighi invece sono relativi alla al copyright e ai dati utilizzati per l'addestramento quindi il primo obbligo è relativo alla documentazione tecnica che appunto deve contenere almeno gli elementi previsti in un allegato l'allegato 11 che sono comunque elementi abbastanza precisi in relazione alla natura come è stato addestrato a tutta una serie di informazioni molto precise molto tecniche sul modello queste ovviamente sono informazioni che possono anche tradire segreti commerciali quindi in realtà questa documentazione tecnica può essere visionata solo dalle autorità un secondo obbligo invece di documentazione e aggiornamento ovviamente è una documentazione che potrà essere fornita ai fornitori a valle di sistemi di intelligenza artificiale che vogliano appunto integrare il modello nei propri sistemi e questa documentazione invece nei suoi elementi è dettagliata dall'allegato 12 ed entrambi questi allegati sono modificabili dalla commissione in modo da appunto rispondere anche all'innovazione tecnologica e anche nonché comunque all'esperienza che si farà sul tema il terzo elemento invece è l'attuazione di politiche e procedure anche automatizzate in modo da adempiere alla normativa in materia di diritto d'autore nonché alla redazione messa a disposizione del pubblico di una sintesi che sia sufficientemente dettagliata per quanto riguarda i contenuti utilizzati per l'addestramento del modello per quanto riguarda invece i modelli a finalità generale con rischio sistemico questi innanzitutto devono adempiere agli stessi obblighi che sono richiesti per i modelli a finalità generale inoltre devono anche sottoporse ad una valutazione di questi modelli tramite protocolli e strumenti standardizzati comunque rispetto allo stato dell'arte anche ad esempio con adversarial testing alla fine di appunto individuare attenuare anche il rischio sistemico e quindi andare anche a individuare attenuare questo rischio sistemico che sia derivante dallo sviluppo dall'emissione nel mercato e dall'uso anche dei modelli utilizzando appunto anche delle politiche di gestione dei rischi sistemici ad esempio processi di responsabilità processi di governance anche con monitoraggio successivo all'emissione del mercato e quindi seguendo l'intero ciclo di vita del modello inoltre questi fornitori dovranno anche andare a tracciare documentare notificare alle autorità competenti informazioni su eventuali incidenti gravi che avvengano con incidenti gravi si intendono incidenti o comunque malfunzionamenti diciamo del modello che possono comportare o il decesso o gravi danni alla salute perturbazioni gravi o comunque irreversibili della gestione del funzionamento di imposto turre critiche violazioni di obblighi della normativa dell'Unione Europea relativa ai diritti fondamentali o comunque che possono arrecare gravi danni alle cose o all'ambiente inoltre è necessario anche che questi modelli cosiddetti con rischio e sistemico abbiano un livello adeguato dimostrano di avere un livello adeguato di cyber security per quanto riguarda sia il modello lo stesso che la sua infrastruttura fisica per quanto riguarda inoltre la dimostrazione della conformità quindi abbiamo visto molto velocemente mi rendo conto i vari obblighi che sono richiesti a queste due categorie di modelli a finalità generali però bisogna anche andare a capire come effettivamente questi fornitori potranno dimostrare la loro conformità nei punti del regolamento anche perché comunque sono previste sanzioni anche abbastanza elevate per quanto riguarda eventuali violazioni perché i regolamenti in particolare per il genere proprio di AI individuano una sanzione non maggiore del 3% del fatturato annuale o 15 milioni se è superiore quindi comunque si parla di sanzioni abbastanza elevate quindi innanzitutto è appunto l'interesse di questi fornitori dimostrare di essere conformi quindi innanzitutto l'ufficio per l'intelligenza artificiale che è appunto l'autorità che è stata designata in modo centralizzato che ha la competenza per quanto riguarda tutto il monitoraggio della disciplina relativa al genere a proposito AI avrà il compito di agevolare l'elaborazione o comunque redare questi codici di buone pratiche assieme ovviamente a tutte le autorità nazionali fornitori dei modelli eccetera con la partecipazione della società civile dell'industria del mondo accademico e e altri insomma questi codici che dovranno prevedere almeno i requisiti di quegli articoli 53 e 55 quindi gli obblighi che abbiamo appena visto compreso anche le modalità con cui sarà necessario tenere aggiornata la documentazione tecnica che abbiamo visto ad esempio anche bisognerà andare a dettagliare cosa vuol dire il livello di dettaglio della sintesi dei contenuti utilizzati per l'addestramento che è appunto il quarto obbligo per i sistemi a personalità generali oppure anche il tipo e la natura dei rischi sistemici perché appunto abbiamo visto che in realtà non c'è una vera definizione molto netta all'interno del regolamento oltre che alle procedure e le varie modalità per la valutazione degli stessi quindi sarà necessario che appunto questo ufficio per l'intelligenza artificiale attraverso il codice di buone pratiche vada a definire quelli che sono effettivamente gli obiettivi specifici le misure anche tramite ad esempio dei KPI di un indicatore di prestazione in modo da effettivamente riferire anche in merito all'attuazione degli impegni e delle misure adottate ovviamente il codice di buona pratica sarà uno delle primissime sfide per il neonato ufficio per l'intelligenza artificiale anche perché il codice di buona pratica sarà necessario per presumere la conformità del modello almeno fino alla pubblicazione di una norma armonizzata quindi di uno standard quindi i modi per dimostrare la propria conformità saranno in primis questo codice di buone pratiche che viene regolato dall'articolo 56 successivamente verrà comunque anche elaborato uno standard il quale appunto come nel resto della disciplina dell'EIET rispetto al quale porta ad una presunzione di conformità inoltre comunque il fornitore potrà sempre utilizzare mezzi alternativi adeguati di conformità che saranno però in questo caso soggetti all'approvazione della commissione quindi anche al vaglio e all'analisi della commissione io con questa slide ho finito la mia presentazione e vi vorrei ringraziare per l'attenzione grazie bene 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 allora come sapete l'idea di questi webinar comprende anche l'interdisciplinarietà perché evidentemente il diritto deve avere una sua sostenibilità tecnologica non possiamo richiedere che ne so rispetto di obblighi che non siano tecnologicamente per esempio possibili questa volta come ho già detto abbiamo la possibilità abbiamo la fortuna di avere due discussant e quindi darei la parola non so se voleva iniziare prima Paolo Stefano come credete voi io a qua Stefano bene grazie Paolo bene prima di tutto grazie a Giulia che è stata incredibilmente chiara nella spiegazione anche di una norma che come le stesse adesso in tanti punti è abbastanza famosa ma poi su questo ci arriveremo però a me è servita tantissimo per riuscire a capire un po' di più veramente pur non essendo un giurista quindi non assolutamente avendo in mente avendo la base fatemi partire dalle cose positive credo prima di tutto il fatto che la commissione europea che il legislatore così si sia posto il problema di inserire quella nuova base sulla base di un qualcosa che è successo nel 2022 lo vedo come una cosa positiva il grande problema ce lo siamo detto con Carlo con il professore Casanate il grande problema in questo momento della normativa della regomodizzazione è la velocità l'intelligenza artificiale sta andando a una velocità mostruosa e credo che sia una bella sfida per chi fa le norme riuscire a seguire questa velocità anzi io ho paura che dovrà ancora provare a seguirla sempre di più perché le cose cambieranno non nel giro degli anni ma nel giro dei mesi visto i progressi tecnologici e gli investimenti che ci sono su questa tecnologia andiamo avanti con le cose positive prima di tutto bene naturalmente per la ricerca problema per la ricerca lo sa bene Stefano Micocci in questo momento in aree importanti dove la ricerca in intelligenza artificiale potrebbe veramente aiutarti tantissimo è l'accessibilità ai dati però bene Stefano ha lavorato all'interoperabilità in questo momento per la ricerca non sono a disposizione i dati a livello nazionale perché non ci sono sistemi interoperabili purtroppo però bene che ci sia stata fatta questa distinzione che quindi anche nel caso dei modelli generativi ecco noi sconvolge un po' perché è una regressione lineare sapete quella retta che approssima nel modo più vicino possibile i punti di un grafico è un modello generativo qui chiaramente non si intendono i modelli generativi si intendono i large language model i foundational models tutti quelli che utilizzano tecniche di deep learning spintissime con tantissimi parametri e addestrati come ha detto giustamente molto chiaramente Giulia addestrati e questo è già un punto importante perché noi che facciamo tecnica dobbiamo capire bene come allineare la terminologia secondo punto positivo bene la parte sull'open source per il non rischio sistematico perché credo possa spingere possa spingere tanto ad avere per questi sistemi molto potenti dei sistemi che si possono almeno provare ad andare a capire almeno provare almeno a vedere come sono fatti e una bella spinta verso credo una modalità una modalità anche di business che può essere veramente che può garantire certi requisiti requisiti la definizione del sistema scusate del rischio sistemico come ha detto Giulia è abbastanza vaga mi fa abbastanza è molto simpatico il 10 alla 25 flop che guardate caso è quello che serve per addestrare GPT4 esattamente quello più o meno che serve il GPT4 e quindi i grandi sistemi quindi hanno buttato lì 10 alla 25 che è una cosa mostruosa se pensiamo che Leonardo dell'HPC di Bologna che è uno dei sistemi più potenti credo che ne abbia solo 10 alla 17 qualcosa flop quindi ci vogliono mesi e mesi per addestrare un sistema come GPT4 e quindi è una definizione politica ma da un certo punto di vista io mi sento di dire positiva perché in qualche modo spinge verso sistemi più semplici più comprensibili credo e che consumano meno energia infatti quando ho visto 10 alla 25 flop all'inizio ho pensato ah questo è per l'energia invece no poi mi sono accorto per buttare fuori GPT4 quindi OpenAI Microsoft e Google però diciamo è una scelta quindi però io vedo anche in questo un aspetto positivo il fatto che i sistemi open source quindi sopra questa soglia computazionale non abbiano eccezione può essere un po' strano ma ha una sua razionalità sistemi troppo complicati anche se sono open source non si capiscono quindi poi da capire se 10 alla 25 flop è la misura giusta però chiaramente io vedo una motivazione in tutto questo allora io credo anche che diciamo per quanto riguarda i sistemi generativi in generale di cui parliamo anche diciamo sotto il rischio sistemico sistemico io credo che quelle cose siano delle norme ragionevoli mi si chiede la fattibilità il fatto di doverli documentare perché poi mi possono andare a finire in sistemi di un certo rischio e lo vedo abbastanza fattibile se è questo che mi si chiede ecco sui sistemi non open source e non un rischio sistemico c'è da porsi il problema se questo possa essere veramente una difesa per l'Europa piuttosto che un ostacolo quando gli Stati Uniti e la Cina svilupperanno dei sistemi potentissimi e dopo tutto non so io non sono esperto di mercato ma il mercato europeo è anche un mercato abbastanza ristretto mi chiedo se questo non possa essere un problema per le aziende per le aziende che non tutte hanno un modello open source noi lavoriamo con aziende che stanno cercando di utilizzare questi sistemi nelle loro applicazioni naturalmente restringendoli e prendendo partendo dei modelli addestrati open source ad esempio con una licenza che poi permetta però loro di avere di costruire dei sistemi commerciali anche che non vogliono rilasciare open source ecco che sicuramente non hanno gli investimenti e la potenza di Microsoft o di Google mi chiedo se questo non possa essere un problema quindi questo dal punto di vista per le aziende io sono in un centro di ricerca però lavoriamo con tante aziende e mi chiedo se su questo punto bisogna riflettere un po' di più l'altro aspetto un po' così per esperienza problematico lo sa bene anche lo Stefano Micocci quando le definizioni sono fumose si dice beh allora diamo la decisione al garante della privacy diamo la decisione al garante della competizione diamo la decisione noi per esperienza si tende a dare i giudizi più restrittivi possibili questo potrebbe essere un quindi Giulia ha spiegato bene che si andrà avanti anche rispetto a questi codici di buone pratiche però qui veramente vedrei una certa urgenza nel tentare di normare tutte queste cose io farei semplicemente questa cosa lasciare la parola Stefano e poi una mia considerazione più generale che non riguarda solo i sistemi generativi cioè i sistemi large language models e i foundational models dopo però lasciare la parola a Stefano ottimo grazie in realtà fammi fare solo una nota prima di dare la paura scusami Stefano una nota piepagina diciamo di carattere più giuridico rispetto alle cose che hai detto e noi lavorando qui su diritto e tecnologie in termini generali in qualche modo abbiamo proposto le tre A del diritto che deve occuparsi di tecnologie un diritto che deve essere aperto ai risultati scientifici deve tenere in considerazione i risultati scientifici un diritto che deve essere aggiornato e un diritto che deve essere attento alle specificità della tecnologia che va a disciplinare e mi fa piacere che o comunque ecco ho apprezzato molto questo aspetto perché tu appunto hai detto hai apprezzato che l'AI-ACT in questo senso è aggiornato la prima A nel senso che effettivamente ha preso in considerazione seppure nell'ultima versione ma ha preso però in considerazione appunto questi nuovi modelli è anche aperto alla scienza e fra l'altro ricordo anche che l'AI-ACT non copre i sistemi che vengono studiati diciamo lo scopo di ricerca scientifica l'AI-ACT dice perché il testing in real world invece ovviamente ricade all'interno delle condizioni dei requisiti degli obblighi dell'intelligenza aziale quindi in qualche modo una apertura alla scienza la possibilità di fare ricerca senza dover rispettare obblighi che sarebbero probabilmente stati eccessivi e anche la terza l'attenzione perché no si sarebbero potute fare non so un artificial intelligence act per l'AI in giustizia in medicina nei diversi ambiti invece se deciso di fare una regolamentazione generale la cui attenzione per la specificità del singolo sistema modello si scopre attraverso il criterio del rischio e allora sia la piramide classica che un'ulteriore bipartizione e di rischio sistemico o rischio diciamo generale del general purpose AI risponde forse anche questa terza A quindi ecco in questo senso ci sono certamente aspetti di problematicità di complessità enorme dell'AI però questi tre elementi l'aggiornamento l'apertura alla scienza e l'attenzione ai singoli rischi forse effettivamente sono elementi che anche da un punto di vista giuridico proprio in questa contaminazione di ritoscienza possono essere utili scusami molto Stefano ma era troppo ghiotta la simmetria diciamo fra le considerazioni a te la parola no no anzi ti ringrazio perché mi ha dato un ulteriore spunto io poi in realtà ho poco da aggiungere dalle osservazioni che ha fatto Paolo semmai magari mettere alcuni accenti un po' a livello di sistema proprio partendo dalla prima slide che è stata presentata la definizione così articolata di cos'è un sistema di intelligenza artificiale e poi dalla diciamo dalla spiegazione delle altre slide si è capito come anche Paolo ha messo in evidenza che l'accento e la paura se vogliamo o l'attenzione a seconda di come la si veda è legato sui sistemi generativi LLM anche perché se si vede già anche nella definizione di sistema anzi nei modelli per utilizzare effettivamente però anche qui cioè volevo porre proprio questa la mia riflessione cioè i modelli poi sono delle istanze di sistemi non è detto che un sistema sia costituito da più moduli software oppure da più modelli istanziati potrebbe essere anche un unico modello quindi di fatto un modello è un qualcosa che può andare a realizzare un sistema composto solamente appunto da un modello stesso quindi le due cose in qualche modo dal punto di vista dell'ingegneria del software sono molto sfumate se tu prendi un modello poi lo fai andare in running lasciatemi questo termine diciamo molto molto così di settore di fatto è un sistema che fa cose cioè e non è detto da quel che dice viene indicato anche qui nella nella definizione di sistema AI che è adattabile che è una caratteristica alta attenzione che hanno i sistemi di AI ma non in software tradizionale può presentare adattabilità dopo la diffusione e questo che è una caratteristica fondamentale nella definizione fra sostanzialmente tra un software tradizionale e non e possono influenzare ambienti fisici virtuali ma non è detto quindi però nonostante questo viene considerato un sistema di AI la prima diciamo riflessione che Paolo sta bene perché lo sto tediando lui e tutti i gruppi di ricercatori ma qual è effettivamente la qualità o le qualità che caratterizzano un sistema di AI rispetto anzi un modulo software basato su modelli AI su un modulo software tradizionale perché da qui ci possiamo giocare una volta che questa cosa viene anche la consista normativa acquisito e maggiormente identificato enormi livelli di semplificazione pur mantenendo alta l'attenzione nella gestione del rischio che è specifico di questi moduli adesso li chiamo moduli software proprio per cambiare la prospettiva e questa è la prima cosa che volevo mettere in condivisione è il fatto che effettivamente in modo molto corretto molto attento come anche tu prima hai appena detto si è voluto introdurre questa specificità dei modelli di AI però a quest'altro punto di vista c'è quest'altro aspetto cioè il modello di AI nel momento in cui al di là delle due segmentazioni che ci sono state presentate e quindi con ulteriori obblighi per quelle che riguarda il modello sistemico che un po' è come Paolo ha detto fra le righe si intravede che sia politico oltre che tecnico e di attenzione che ci sta anche però capiamo bene che nel momento in cui questo modello deve entrare dentro un sistema è applicato in un certo livello di applicazione allora rientra all'interno di un di un di un di un livello di rischio alto rischio illimitato o minimo e nel momento in cui i vincoli di documentazione di applicabilità sono alti e vengono applicati comunque anche in applicazione a rischio minimo è chiaro che si portano dentro però dei vincoli dal punto di vista dei requisiti e normativi che sono più stringenti quindi questo può portare o potrebbe portare una una difficoltà nell'utilizzare questi tipi di di modelli laddove il sistema non lo richiederebbe dalla normativa allora lì è da capire un attimo è chiaro che uno dice ma io ho dei sistemi open source allora li utilizzo i sistemi open source in se non sono a rischio sistemico nel in applicazioni diciamo a rischio minimo o dove perché non ho bisogno di avere tutti questi tipi di requisiti non lo so non mi sembra che questo possa essere il modo di di approcciarsi però verrebbe da pensare anche una cosa di questo tipo invece la forza sicuramente interessante della dell'esenzione dei modelli AI rilasciati con licenza open source io la vedo come spinta invece interessante nel sviluppare su qualcosa che è già consolidato o comunque su know-how già consolidato sviluppare ulteriore know-how ulteriore tecnologia cioè il avere dei mattoncini metterli a disposizione che poi è se vogliamo quello che succede o è successo anche in passato nella creazione delle community open source ci sono due grandi se vogliamo per semplificare spinte una più filosofica è legata a principi etici di equità altre a principi di entrare nel mercato per poi dopo acquisire know-how Oracle ha comprato Java a suo tempo non credo per motivi etici ma perché c'era tutto una necessità un'importanza e questi sono tanti questi tipi però in tutti i due casi è una cosa molto interessante il fatto che sono stati messi insieme la parte open source e la parte legata alla ricerca voglio vederla una strategia magari una strategia più o meno esplicita di far sì che ci sia un'alleanza importante insomma tra la ricerca che porta avanti nuove idee nuovi paradigmi e come diceva Paolo interessante il fatto che sei open source probabilmente non è allo stato dell'arte ma ti può dare la possibilità di avere strade nuove più efficienti nel risolvere dei problemi insieme con la condivisione diciamo di terc e il terzo Paolo mi sono scontrato e laddove non ci sono delle definizioni molto chiare si è sempre restrittive specialmente nell'immagine in questa materia che ha due aspetti critici il primo è quello dell'EI che fa paura forse anche dal punto di vista semantico se non si fosse chiamato intelligenza artificiale ma software molto bravo forse si aveva meno paura di quello che sta facendo è una battuta ovviamente però anche il fatto che l'EI è figlia della disponibilità dei dati tanti dati sono difficili da tracciare da capire quali sono le fonti da caratterizzare come viene richiesta la documentazione specialmente per l'Arge Language Model quindi questi due aspetti se non sono normati o non si viene identificato qual è il livello ragionevole per garantire sicurezza e garantire che i sistemi possono essere sviluppati alla fine questi non verranno né sviluppati dall'Europa e sappiamo che i vari act stanno spingendo anche per un'azione manufattoriera da parte dell'Europa per smarcarsi insomma dalla Cina e negli Stati Uniti il C-Pact è quello più importante ma lo vediamo in tantissimi ambiti questo aspetto ma anche la possibilità di utilizzare as a service servizi che vengono dall'esterno perché se noi abbiamo un servizio che sviluppiamo noi ma utilizziamo vogliamo utilizzare per motivi di mercato servizi basati su C-GPT 4.0 e questo per esempio non garantisce la documentazione che viene richiesta noi prodotti europei non lo possiamo utilizzare neanche as a service e questo è un grosso problema è un grosso problema queste sono un po' le considerazioni a margine ecco benissimo grazie mille grazie mille anche perché ancora una volta ancora di più hai imbricato diciamo l'elemento tecnologico scientifico quello giuridico normativo e di sistema la tua esperienza probabilmente anche al ministero ha permesso anche queste ulteriori considerazioni che davvero sono molto utili dunque aprirei parlò certo Paolo è vero dove ciò c'è una cosa che in realtà mi è venuta proprio in mente anche ancora di più quando hai detto le 3A perché quello che a me ha sempre colpito il piacere anche di lavorare con te è che in realtà tu hai parlato di una quarta che lei ha è proprio il diritto all'EI ora io quello che pongo a voi che fate norma voi esperti un dispositivo medico che permette di visitare il 63% dei pazienti in Italia che altrimenti non visitiamo perché non riusciamo a visitarli e che ha una garanzia di precisione di risultato naturalmente è testato come si testano tutti i dispositivi medici di avere una certa precisione quindi sono molto chiari i limiti alcuni limiti proprio dei sistemi a rischio se non sbaglio quindi la precisione l'output beh se dentro ci ho usato un sistema un large language model un foundational model è un diritto della comunità davvero quindi io vorrei che le norme spingessero anche giusto regolare giusto non permettere però ci sono delle evidenze forse non servirebbe neanche una sandbox come io spero un giorno ci sarà per andare a dimostrare che questo perché esistono questi sistemi Carlo lo sa di cosa sto parlando anche Giulia esistono questi sistemi non sono stati fatti con tecniche generali però un giorno potrebbero questi sistemi utilizzare anche questi modelli generativi generali come si dice allora a me piacerebbe che si riuscisse a tener conto di queste cose e finisco perché se no non lasciamo più spazio alle domande però il diritto all'AI non è un certo senso che non è solo il diritto del paziente del di chi è giudicato a essere a usare a che si è usato uno strumento potente è proprio un diritto anche sociale credo poi capisco che non è ovvia la cosa mi fermo qui grazie mille noi dal punto di vista giuridico anche dal punto di vista del diritto costituzionale vediamo nell'intelligenza artificiale forme di potere economico e che quindi in qualche modo vanno limitate ma bisogna tenere in considerazione anche dei benefici giganteschi che l'intelligenza artificiale può portare quindi trovare un trade off per permettere all'intelligenza artificiale di far esplodere tutte le proprie potenzialità mantenendola all'interno di un ambito di rispetto dei diritti un esempio ne parlavamo prima proprio l'altro giorno una persona ha visto salva la vita proprio grazie alla possibilità che la sua macchina fosse equipaggiata con sistemi di intelligenza artificiale la persona aveva avuto un infarto è riuscita a montare in macchina anche se non è riuscita fisicamente a guidare la macchina ha impostato come destinazione l'ospedale è riuscita in qualche modo a sorvegliare che la macchina arrivasse all'ospedale in questo modo l'intelligenza artificiale effettivamente ha salvato la vita di quella persona che altrimenti sarebbe non sarebbe potuta essere ricoverata diritto individuale ma come dicevi Paolo in termini più estesi un beneficio sociale per la collettività per cui dobbiamo spingere perché non ci siano solo obblighi requisite doveri ma anche l'esplosione di quelle potenzialità che possono migliorare le cose grazie all'intelligenza artificiale quindi grazie mille anche per questo per questo ulteriore spunto chiederei se o in chat o se qualcuno vuole prendere la parola non mi vedo conferma non mi no no non c'è nulla quindi fatemi chiedere a Giulia se voleva aggiungere qualcosa ah ecco c'è una domanda di Barbara Marchetti grazie Carlo in realtà spero di riuscire a farla perché la connessione in questo momento è molto molto bassa no vorrei riprendere una cosa che ha detto Paolo Traverso quando ha parlato dei costi energetici perché mi piacerebbe qui conoscere un po' la sua opinione perché ogni tanto io ho l'impressione che questo sia forse un tema non del tutto diciamo considerato allora l'altro giorno ho acquisito una serie di dati che riguardano sia diciamo i consumi energetici dei data center ma più in generale ad esempio alcune dichiarazioni di amministrazione di società che gestiscono reti anche in Italia servizi di rete che dicevano che per esempio è necessario triplicare nel giro di pochissimo tempo la potenza della rete perché ad esempio l'uso ormai diffuso di CiaGPT sta contando dei costi molto elevati sia dal punto di vista energetico temo che il treno sia entrato in qualche galleria e dove google adesso abbiamo perso un attimo il senso il senso si è capito comunque ecco perché per esempio addirittura c'è stata una mi sentite sì c'è stato ci sono state delle associazioni ambientaliste che hanno fatto causa alla città di De Valles perché non voleva rivelare il consumo di acqua che questi data center e acqua potabile che questi data center ecco volevo un po' capire quanto queste preoccupazioni sono effettivamente fondate se stiamo sotto questo problema soprattutto in Italia ecco un po' cosa ne pensano i nostri esperti informatici certo no chiaro Barbara fammi aggiungere che non so non so se è vera la notizia che ho visto da qualche parte che proprio per questi motivi per esempio OpenAI sta investendo nella costruzione nel potenziamento di due centrali nucleari nucleari proprio perché l'energia è una cosa di cui hanno estremo bisogno non stiamo sopravvalutando il problema il problema esiste il fratellino minore GPT3 quello neanche addestrato con la parte conversazionale cioè c'è GPT si dice che consuma si pensa per essere trainato quello che consuma una famiglia in media in un anno per fare un training pensiamo GPT4 non sono disponibili questi dati ma sono cose enormi se pensate agli investimenti che sono andati in da parte di Microsoft per OpenAI sono state in gran parte utilizzate in miliardi per avere un'infrastruttura potentissima quindi il problema sicuramente esiste va sicuramente affrentato per questo dopo tutto quella regola un po' strana dei 10 alla 25 top ha un senso anche quello spingere la ricerca spingere a avere dei sistemi più sostenibili sicuramente anche il problema dell'acqua è un grande problema e quindi veramente la ricerca l'innovazione dovrebbe veramente spingere è un grande un grande problema l'intelligenza artificiale noi abbiamo dei progetti dove utilizziamo l'intelligenza artificiale per non sprecare l'acqua certo che però se questi sistemi poi sono costruiti sprecano prima allora è tutto inutile una buona notizia è che lunedì Stefano e Dio siamo in Val di Non nelle gallerie dove verrà costruito un data center non sarà un HPC però molto sostenibile perché nelle gallerie si potrà riutilizzare acqua che quindi non viene e naturalmente si potrà diminuire molto il consumo energetico secondo me sia la ricerca che l'imprenditoria dovrebbe prendere tutto questo veramente sul serio perché si ci ha sconvolto il Covid fra qualche anno non tanti sarà proprio la mancanza di acqua e il consumo energetico ogni volta che viene trainato addestrato uno di questi sistemi di cui abbiamo parlato oggi si consuma tantissima energia quindi sicuramente andrebbe regolata anche questa cosa il 10 alla 25 è già un po' la regola e comunque nelle considerazioni che ha fatto Giulia mi sembra che ci sia anche questo aspetto sicuramente è un problema da non assolutamente sottovalutare e lascia tanto spazio alla ricerca deve esistere sapete che in questi sistemi di cui abbiamo parlato oggi c'è proprio una phase transition cioè è stato dimostrato senza capire neanche bene perché perché fino a un certo numero di parametri fino a un certo numero di dati i sistemi non funzionano e poi iniziano a funzionare però quel numero è molto alto quando iniziano a funzionare e quindi si usa tantissima energia modelli più semplici modelli più sostenibili modelli un po' più comprensibili e la direzione sicuramente su cui andare per il futuro e fatemi dire c'è tanto spazio per la ricerca qui anche una domanda proprio a te e a Stefano la strada è quella di costruire sistemi che consumino di meno oppure non c'è niente da fare i sistemi consumeranno tanto e bisogna lavorare invece su produrre più energia in forma sostenibile o entrambe le cose entrambe ma la prima cosa cioè fare sistemi che consumano meno penso che sia indispensabile naturalmente poi l'energia sostenibile è molto importante si può agire in tutte le direzioni ma non agirei solo nella seconda bene che no bene cioè non prenderebbe la pura strada di OpenAI di fare una bella centralona nucleare non so Stefano cosa ne pensa sono d'accordo cioè la produzione il migliore modo per produrre energia è non consumarla questo è la cosa principale che viene raccontata da chi si occupa di energia anche questo esperienza in famiglia e comunque in colleghi e quindi certamente io credo che veramente l'aspetto principale sia di utilizzarla bene e utilizzarla bene cosa vuol dire secondo me uno è quello che diceva Paolo cioè investiamo nella ricerca in fare qualcosa che a seconda del loro utilizzo dell'utilizzo di questi modelli che vogliamo realizzare siano più efficienti possibili e abbiano un'efficacia controllata l'altro aspetto cioè non c'è bisogno di avere la precisione a tre virgole a tre a tre posizioni dopo la virgola se questo è un più o meno un'unità noi ingegneri perché non siamo matematici e fisici ma siamo un pochino più smanettoni abbiamo il bellissimo più o meno la confidenza e quindi secondo me la cosa interessante è utilizziamo i sistemi efficienti il più possibile ma anche non spariamo a una mosca con un cannone se questo è effettivamente un'energia cioè cerchiamo di segmentare le nostre soluzioni su quello che servono accontentandoci è chiaro che questa cosa dal punto di vista del mercato forse non è molto invece efficiente per cui si può fare una roba grande che mi serve in tutte le cose la gestisco meglio però non è sostenibile non è sostenibile e poi c'è il tema dei data center che diceva poi Paolo cioè trovare modalità per avere consumo minore e raffreddamento che sono più o meno gratis e magari non lo so se già si sta facendo però magari utilizzando il calore come teleriscaldamento laddove è possibile come si sta facendo per esempio adesso per le centrali che bruciano i rifiuti chissà anche se effettivamente questa può essere una possibilità cioè cerchiamo di dare un senso all'economia circolare che è una bella parola ma si può applicare in diversi campi grazie mille anche per queste cose non stiamo parlando strettamente di general purpose AI ma è un tema quello dell'impronta ecologica che magari potrebbe essere il proprio il titolo il tema affrontato in un prossimo webinar e quindi grazie mille chiedo se ci sono altre domande da parte delle persone che ci stanno seguendo posso? Matteo prego ciao benvenuto per il ciclo di seminari davvero interessante una una riflessione rapidissima e leggera veramente io trovo molto affascinante che le AAT così come GDPR e prima ancora la normativa sulla sicurezza sul lavoro abbiano introdotto appunto i livelli di rischio veramente e vadano a imporre questa riflessione sui livelli di rischio e poi quindi le misure tecniche organizzative nel caso di GDPR oppure la regolamentazione ora sull'intelligenza artificiale questo sul fatto anche del drafting normativo mi ha fatto sorridere il fatto che proprio oggi sono stato un altro incontro in cui si propone uno strumento ve lo metto in chat per curiosità per il drafting normativo a livello europeo e anche lì c'è il termine di una comunità del riuso e quindi di soluzione open open source richiamando quello che diceva il dottor Micoce che secondo me è una strategia quello di partire da qualcosa di consolidato per andare oltre è un po' anche la strategia che ha adottato la provincia progetto bandiera in particolare quello che si prefigge di creare delle soluzioni anche con l'intelligenza artificiale per fornire gli strumenti al pubblico ma anche al privato e poi di sviluppare dei verticali per cui ho visto questi collegamenti mi sono sentito di esprimerli tutto veramente molto molto interessante grazie ancora per le relazioni grazie Matteo effettivamente tutto si tiene in qualche modo con il progetto bandiera siamo coinvolti anche come fondazione Bruno Kessler nella parte proprio dell'AI e quello è qualcosa di molto interessante perché vuole sviluppare una piattaforma che fra l'altro Stefano continua a dire questa piattaforma che permetterà di innestare dei verticali come diceva Matteo tipo i verticali sul turismo i verticali sulla protezione civile sui incentivi alle famiglie e così via diversi però sarà una piattaforma che permetterà di utilizzare l'intelligenza artificiale per diverse applicazioni e sarebbe bellissimo che questa piattaforma in qualche modo fornisse già anche delle garanzie rispetto alle AI Act quindi in qualche modo nei vari passaggi tipo tenendo conto dei dati che si sono utilizzati per addestrare una rete neurale delle varie versioni perché è questo che farà questa piattaforma e terrà tutta questa tracciabilità è uno strumento di sviluppo software e allora uno potrebbe incamerare tutte queste informazioni e chissà generarsi senza CGBT generarsi un report che soddisfa i requisiti dell'AI Act adesso scherzavo senza CGBT però veramente questo dimostra quanto noi che lavoriamo in tecnologia dobbiamo veramente lavorare assieme a chi ne sa di normative e sicuramente anche tutti i requisiti sarà molto importante rispettarli anche perché è una piattaforma per la pubblica amministrazione quindi ancora di più bene grazie grazie Paolo per questa ulteriore considerazione e non vedo altre domande altre mani alzate o interventi in chat quindi fatemi chiedere a Giulia se voleva aggiungere qualcosa e poi direi io due cose finali in caso grazie molto brevemente mi ricollego all'ultimo discorso quindi quello un po' della sostenibilità ambientale sicuramente mi sento di dire che per quanto riguarda la sostenibilità ambientale effettivamente l'IAEF sia stata un po' un'occasione persa lasciatemelo dire è vero che la prima proposta non conteneva quasi niente anzi praticamente niente in relazione però effettivamente alcune proposte erano state avanzate dal Parlamento europeo che per quanto ancora forse timidine ecco almeno erano un passo almeno nella direzione giusta mentre quello che è il pochissimo che è rimasto è meramente programmatico all'interno dell'IAEF sicuramente anche per quanto riguarda proprio in modo specifico appunto il generatore cose AI ad esempio nelle negoziazioni e nel dibattito politico un po' più pubblico si era anche parlato effettivamente del problema ambientale in realtà poi nella disciplina troviamo semplicemente che in un allegato una delle informazioni richieste è la quantità di di consumo energetico noto e stimabile tra l'altro nell'allegato quello che include le informazioni da dare solo all'autorità e quindi ovviamente non si tratterà neanche di informazioni accessibili al pubblico anche al fine di fare comunque una scelta consapevole appunto come si diceva prima anche nell'ottica di appunto segmentare comunque no e quindi di scegliere anche con criterio il tipo di applicazione per il compito al quale deve essere presosta e niente quindi mi sento di dire che effettivamente sono assolutamente d'accordo che su questo punto molto di più si poteva fare sicuramente grazie bene 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 allora io finisco solo con due note la prima è che c'è ancora tanto da fare abbiamo iniziato proprio a conoscere all'inizio al primo incontro avevo detto che l'EI-E-E-K è un po' un mostro in termini affettuosi abbiamo iniziato a a guardare un po' da distante siamo avvicinati in alcune parti ma davvero ci sono molte cose da vedere e potremmo anche in futuro vediamo lavorare su un concetto di sostenibilità complessiva dell'EI-E-K e parlo di sostenibilità complessiva non solo in termini diciamo ecologici di cui abbiamo parlato ma per esempio anche in termini giuridici per esempio come si mette come si inserisce l'EI-E-K all'interno di un ecosistema normativo che vede una serie di altre normative il GDPR la disciplina dei dispositivi medici la proposta di Civil Liability Directive tutta la disciplina sulla proprietà intellettuale stiamo creando un sistema troppo complesso e alle volte incoerente oppure c'è una sostenibilità riusciamo a mantenere una sostenibilità giuridico normativa complessiva altro elemento di sostenibilità la sostenibilità economica stiamo mettendo dei costi diretti o indiretti che potranno gestire e sopportare solo i grandissimi come questo è una ne aveva già parlato anche Paolo oggi tagliando fuori in questo modo le piccole e medie imprese le start up perché non hanno la possibilità di di sostenere quei costi costi dovuti ad alcuni obblighi a livello di innovazione stiamo trovando il giusto trade up fra garanzia dei rischi e non ostacolo all'avanzamento tecnologico e alla ricerca anche di questo si è parlato e poi appunto da un punto di vista tecnologico l'AI pone degli obiettivi dei requisiti degli obblighi che sono tecnologicamente fattibili oppure pone alle volte un'asticella che è difficile da raggiungere proprio perché ci sono che ne so dei problemi il classico punto di riferimento in questo senso è la trasparenza rispetto al fenomeno black box che comunque è stato molto attenuato all'interno dell'AI poi ecco quindi tutta una serie di elementi di sostenibilità trovare il giusto bilanciamento è una cosa che inizia con l'AI act ma che poi dovrà essere piano piano aggiustato con tutto l'AI act è il punto di partenza in realtà ci saranno linee guida allegati che potranno essere modificati con poteri delegati con atti delegati e quindi con una maggiore flessibilità ci saranno certamente interventi ci saranno certamente interventi da parte dei giudici prima di tutti la corte di giustizia ma anche poi diversi livelli e quindi una sostenibilità davvero complessiva è possibile ritrovare all'interno dell'AI act questo era il primo punto il secondo e su questo fatemi solo condividere lo schermo molto rapidamente perché volevo mostrarvi un lavoro che stiamo facendo qui al Biolo Lab della facoltà di giurisprudenza dell'università di Trento vedete qui c'è l'AI legal atlas è il tentativo di raccogliere se ci cliccate sopra poi andate a vederlo normativa giurisprudenza e soft law dedicata all'intelligenza artificiale ognuna di queste tre sezioni se andate ad aprirla ha delle schede molto sintetiche in italiano che raccontano del documento e poi ovviamente tutti i materiali in originali per esempio ecco ho cliccato su quello della normativa e c'è l'Artificial Intelligence Bill del Regno Unito l'Executive Order statunitense e altre cose se andate nelle altre sezioni sulla giurisprudenza c'è ci sono decisioni della Corte di Giustizia della Cassazione Italiana e della Corte Europea di Strasburgo in tema di intelligenza artificiale e se andate nel soft law ci sono documenti di vario genere dall'Ocse all'ONU al Consiglio Consultivo e una serie di altre creazioni ecco e questa è una cosa su cui stiamo investendo e per cui ringrazio tutti i componenti del Biolo Lab e fatemi finire con i ringraziamenti su tre livelli a FAIR che ha sostenuto questa al cui interno abbiamo lavorato quindi al PNRR il secondo ringraziamento va alla cattedra di Jean Monnet su diritto europeo di intelligenza artificiale abbiamo un finanziamento da parte della Commissione Europea su questo e il terzo ringraziamento oltre a FBK che ha lavorato molto con noi l'Università di Trento il Biolo Lab all'interno del quale siamo riusciti a fare queste cose in particolar modo grazie a Marta Fasan che è riuscita oltre che a essere relatrice del primo incontro anche a gestire tutta una serie di siti organizzazioni webinar stessi grazie ovviamente ai relatori di oggi Giulio Olivato Paolo Traverso Stefano Micocci e a tutti quelli che ci hanno seguito e state aggiornati perché certamente questa è la prima di una serie di incontri che vorremmo replicare con altre tematiche grazie a tutti e alla prossima arrivederci grazie a te Carlo grazie a tutti